Bentornati nel forum. Sono oggi anch'io qui per parlarvi di un'espansione per il gioco di ruolo Urban Heroes. Daniele ha parlato di indigene Reietti, io invece tratterò dell'espansione chiamata Sette Culti. Ovviamente ringrazio Alessandro Rivarola e Matteo Botti dell'Atenat Games, loro hanno scritto Urban Heroes, l'Atenat Games lo ha pubblicato e inoltre hanno avuto la gentilezza di farci avere quantomeno i manuali in copia digitale così ora ve ne possiamo parlare. Allora a questo punto Sette e Culti. Ho sempre apprezzato molto il fatto che Urban Heroes si è preso il tempo, quando si sono presi il tempo, di specificare nel loro manuale di espansione non cose che potrebbero essere subito immediate ma aspetti effettivamente importanti della nostra vita reale, della vita di quello che è il nostro mondo adattato però a quello ormai che è Terra Z, quindi un mondo in cui avere dei superpoteri di origine anche molto particolare perché non scordiamoci ci sono superpoteri dati da oggetti o comunque connessioni divine o addirittura magiche e a questo punto come questi elementi possono trasformarsi e influire diversamente sulla vita delle persone e della società ora che diciamo il mondo un po' più fantastico, è un po' più supereroico ma anche più difficile. È indubbio che la religione nei suoi aspetti positivi ma anche negativi sia stata fondamentale per lo sviluppo comunque di determinate società umane. Anco l'avvento diciamo degli heroes questo continuerà a essere vero ma con delle situazioni diciamo portate all'estremo rispetto ad oggi. Il manuale comunque sebbene si chiami sette culti non si concentra esclusivamente sull'accezione negativa di questo termine ma ad esempio lo troveremo diviso in diversi capitoli che parlano appunto della magia, della religione in generale e di come poi si possono sviluppare e voi potete creare sette e appunto culti quindi posizioni più estreme rispetto alla vita spirituale e come adattarle nella vostra campagna e soprattutto come queste si pongono in Lorde Urban Heroes come Daniele ha già fatto un perfetto riassunto quindi mi incentrerò meno su questo aspetto dato che comunque in sette culti se ne parla di meno sebbene sia ugualmente presente. Comunque dal punto di vista tecnico mi tolgo subito questo aspetto il manuale ci inserisce altri poteri cioè proprio tabelle complete di poteri quindi anche eventualmente con i loro difetti cosa comportano principalmente legati alla magia perché di questo si tratta prima o meno per quanto riguarda i poteri. Avremo poi delle evoluzioni più che altro di tratti o comunque di professioni già esistenti che a prima vista possono sembrare non molto dirette perché ad esempio c'è diciamo l'abilità se proprio vogliamo chiamarla così giurisprudenza è la professione magistrato che io all'inizio vi sono detto cosa c'entrano ma immaginate come è possibile un magistrato che è particolarmente credente oppure è affiliato segretamente a qualche culto strano questo potrebbe come d'altronde anche alcune volte succede da noi oggi incidere su quello che fa nel suo lavoro. È ovvio che questo nel mondo di Terra Z è ancora in un certo senso estremizzato. Troviamo poi e questa è una scelta che mi è piaciuta in maniera particolare tutta una serie abbastanza anche estesa di eventi della vita quelli che tiravamo per creare il personaggio che sono in qualche modo legate al divino o all'occulto perché proprio da questo magari noi potremmo aver ottenuto i nostri poteri oppure diciamo sviluppato delle posizioni particolari per quanto riguarda appunto la magia, l'occultismo, la religione che potrebbero andare ulteriormente a rendere il nostro personaggio una persona migliore, peggiore oppure lasciargli qualche tipo di cicatrice. A questo punto le varie sezioni poi ci presenteranno oltre che a una serie di contestualizzazioni quasi ad esempio di gioco o addirittura di dialogo fra personaggi anche importanti dal punto di vista di lore, delle introduzioni che ci dicono dove ad esempio la magia, la religione oppure il punto di vista ritualistico, cultistico di determinati elementi della società è nato, si è evoluto e soprattutto a che punto è ora in Terra Z. Faccio l'esempio della religione, ci parla bene o male di come si è consolidata la religione fino alla società nostra di oggi per poi andarci a dire che in Terra Z le grandi religioni diciamo quelle tradizionali a cui siamo abituati noi si stanno sgretolando perché stanno perdendo seguaci rispetto magari al risorgere di religioni totalmente scomparse o addirittura al sorgere di religioni totalmente nuove che magari si snodono intorno a un soggetto che ha poteri divini e si sta professando come ad esempio un nuovo messia. Come anche ci verrà introdotta la possibilità per i nostri personaggi di ottenere i poteri da oggetti che non solo sono potenti perché possono offrirci poteri ma sono anche potenti solo per il discorso di possederli perché hanno una carica anche sentimentale sulle masse molto grande immaginatevi semplicemente che uno di questi oggetti è la vera croce immaginate un heroes che la possiede che messaggio potrebbe mandare a determinate fasce della popolazione quindi farsi potente allete da una parte ma avere anche gente che lo detesta per tutti altri motivi. Inoltre il capitolo dedicato appunto alle sette ai culti ci presenta tutta una descrizione di quelle che sono le sette ai culti più importanti in terra z dandoci anche le indicazioni per come diciamo creare le nostre se vogliamo all'interno della nostra personale campagna. Non sto a elencarle tutte anche perché sono diverse il video verrebbe troppo lungo e non vi voglio togliere il piacere di andarvele a scoprire. Diciamo che l'unico da un punto di vista più importante di lore mi viene da dire che è il luogo collegato all'Azzeretto che è in sostanza la zona di Ginevra cioè dove è esploso il Cern che è diventata questa specie di wasteland post apocalittica in cui hanno costruito intorno un muro di cemento guardato stile guerra fredda con il muro di Berlino al cui interno ormai vagano i vecchi abitanti di Ginevra che possono essere diventati o mutanti oppure queste creature ancora umane ma con una natura un po' diversa che hanno formato proprio il loro culto che è basato proprio intorno al Cerno di Ginevra e quel portale che ha così tanta importanza nella lore e proprio loro sono quelli che ne stanno a guardia ma anche in un certo senso lo venerano. Tutto sommato è un manuale anche abbastanza interessante perché esplora con una precisione abbastanza alta aspetti che magari non saltano subito all'occhio ci vengono subito in mente quando si sta parlando di un mondo legato ai supereroi ma sono sicuramente aspetti che in un'ipotetica situazione simile al giorno d'oggi e qui verrebbero sicuramente fuori quindi è bello vederli inseriti anche in un gioco di ruolo mia riflessione personale dato che sono io che io stesso ho recensito il manuale vedato ai minori di 18 visto particolari tipi di situazioni che nel mondo reale di oggi e anche del passato si sono comunque profilate rispetto a determinati tipi di culti e di sette che sono venuti fuori è anche interessante vedere come determinati aspetti di questo manuale si possono ricollegare con alcuni contenuti del manuale vedato ai minori di 18 tanto che possono essere tranquillamente trattati insieme in una campagna magari spero di avervi interessato con questa veloce recensione su sette culti per il resto se il video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace condividere attivate la campanella così potete ricevere le nostre notifiche ogni volta che pubblichiamo un video vi invito anche a passare dai nostri social abbiamo facebook instagram e anche un telegram francesco dal fondo sentenzia chiudo